La Procura della Repubblica di Perugia, rappresentata da Raffaele Cantone, e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'AS L'Umbria 1, con Nicola Nardella e Patrizia Bodo, hanno siglato due protocolli di intesa per individuare le linee guida di interventi in materia di indagini per infortunio sul lavoro e malattie professionali. Lo scopo è quello di garantire tempestività nell'accertare i fatti e le eventuali responsabilità penali, tutelando salute e sicurezza dei lavoratori e regolamentando l'iter di interventi. Sul tema l'Umbria è più in difficoltà della media nazionale. I dati INAIL del 31 gennaio stabiliscono che nel 2023 nella regione gli infortuni sul lavoro sono diminuiti del 5,8% contro il 16,1% del dato nazionale. I casi mortali invece nel 2023 sono stati 25 contro i 21 del 2022, chiudendo l'anno con un più 19%, mentre in Italia sono scesi del 4,5%.